È con grande orgoglio e senso di responsabilità che abbiamo accolto la giudicazione di questa gara d'appalto del Comune di Bergamo, nella quale il nostro progetto, il progetto di Fidelitas, è stato ritenuto il miglior progetto. Si tratta di un servizio di pattugliamento sul territorio a tutela dei beni comunali. La cosa importante da precisare, per non creare equivoco o errate aspettative, le guardie giurate possono solo svolgere attività di vigilanza dei beni mobili immobili. In questo caso il Comune di Bergamo ha inteso appaltare questo servizio dedicando tre pattuglie sul territorio comunale. In aggiunta a questo avremo una presenza di qualche ora all'Urban Center e, una cosa molto importante e voluta che era all'interno del progetto, anche uno stazionamento, una chiusura dei cancelli del sottopasso della stazione ferroviaria Gavazzini. Questo in sintesi l'impegno che abbiamo preso e che cercheremo di svolgere con senso di responsabilità e ci auguriamo con soddisfazione per il committente.